Nuova udienza stamani dinanzi alla Corte d'Assisi presso il Tribunale di Chieti del processo sull'omicidio dell'architetto Walter Albi ed il ferimento di Luca Cavallito avvenuto, come si ricorderà, in un bar lungo la strada Parco a Pescara il 1 agosto del 2022. Stamani sono stati ascoltati i testimoni della difesa. Durante il lungo esame Cosimo Nobile si è dichiarato innocente. Avvocato Galasso, stamani esame dell'imputato Cosimo Nobile. Grande attenzione ai dettagli della cena al ristorante. Sì, certamente. L'esame di difesa ha spiegato i suoi movimenti di quella sera. Grande attenzione per la cena al ristorante perché la cena al ristorante è incompatibile per orari al momento dell'omicidio. E quindi è importante provare che Cosimo Nobile fosse in un altro posto. Sono stati ascoltati altri testimoni. Come si ritiene dopo averli ascoltati? Io credo che la prova della difesa di quest'oggi abbia potuto in qualche maniera dipingere quella che è stata la serata e soprattutto cristallizzare un fatto. Non siamo capaci di dire al minuto dove fosse Cosimo Nobile ma sappiamo che in un arco temporale che va dalle 8,5 alle 8,5 certamente Cosimo Nobile non era e non poteva essere nella strada del parco. Quali saranno i prossimi passi? Dobbiamo ascoltare ancora alcuni testimoni da discarico e poi vedremo la Corte come vorrà calendarizzare l'udienza. Testimonianze piene di contraddizioni secondo i legali di parte civile. Avvocato Torino Rodriguez, lunga deposizione, è stato lungo l'esame dell'imputato Nobile. Lui sostanzialmente si professa innocente pur riconoscendo di non essere uno stinco di santo. Guardi, la questione è questa, giustamente Nobile rappresenta una realtà fattuale che contraddice il racconto di Cavallito. Il problema secondo me è un altro, è quello che hanno detto i testimoni che a sua difesa avrebbero dovuto narrare un fatto collimante con la rappresentazione di Nobile. Invece testimoni, a mio avviso, si sono contraddetti tutti. Cioè, è chiaro, uno dovrebbe aver riguardo a quelli che sono gli atti di indagine compiuti e alle acquisizioni fatte dalla Procura. Cioè, si vede subito che, diciamo, già a novembre del 2022, la moglie di Cosimo Nobile cercava di capire chi ci fosse. Parla del 31 di luglio invece che del primo di agosto. Cioè, è chiaro, è comprensibile, c'è un congiunto, marito e padre, che viene accusato di aver commesso un quasi duplice omicidio. È chiaro che tenta, lui stesso ha detto, io non sono uno stinco di santo, però c'è un dato che emerge. Cosimo Nobile oggi ci ha detto di essere intimo amico di Luca Cavallito. Per questioni di poco momento interrompono i rapporti a fine giugno del 2022. Lui dice di essere rimasto scioccato dalla notizia, ricevuta la notizia del grave ferimento di Cavallito e della morte di Nobile e della morte di Albi. Il problema però qual è? Che dice? Non si preoccupa di come, nonostante ci sia stato questo rapporto di amicizia, non si interessa più di nulla. Io credo che oggi, insomma, ancora una volta gli esiti siano favorevoli alla tesi dell'accusa che poi rappresenta il dato reale. Prossima ed ultima udienza, fissata per il 29 gennaio alle ore 9, dovranno essere ascoltati ancora tre testi della difesa prima della discussione finale. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.